Lecchia è stato utile per mettere insieme quelle che sono le problematiche di qua e di là dal confine. Noi come Regione auspichiamo di avere contatti sempre più stretti con la Regione che si trova al di là della frontiera, quindi con la Regione Auvergne, Alsazio e Lorena, proprio perché pensiamo che sia importante soprattutto un lavoro congiunto sui minori non accompagnati, che sembra essere in questo momento la questione sicuramente più critica.